Ciao a tutti ragazzi bentornati in una nuova scoppia e tante esilante missione con Overkill the Walking Dead Allora come stavamo dicendo il gioco più sottovalutato e sul quale hanno lanciato merda dell'ultima parte fallout solo secondo fallout dell'ultimo periodo però vi ricordiamo che poi alla fine non è così tanto male togliendo sti cavolo di missioni obbligatorie di Tower and Defense come quella che andiamo a vedere è un po' impossibile se considerate il fatto che già adesso è impossibile trovare giocatori è molto difficile non adatta il gioco al numero di giocatori che sta giocando quindi noi, io e Angelo che saremo gli unici evidentemente a giocare a questo gioco gli unici stronzi come si dice ma aspettiamo qualche secondo che qualcuno si unisci? tu dici? qualche secondo così no arriviamo a 80 dai tra l'altro Angelo non volendo dobbiamo aspettare qualche secondo perché non vedo più il mio mouse ah ok ma un altro bug un altro bug ma poi sti andando a fine dell'altro monitor a me è capitato un periodo no no è in questo momento guarda è una cosa incredibile quasi Angelo non volendo dobbiamo aspettare gli altri giocatori ecco quello che stavo dicendo è anche pieno di bug non si trovano già giocatori quanti secondi mancano? è arrivato qualcuno? 58 secondi ed è arrivato qualcuno Angelo? no ecco appunto questo è quello che vi dicevamo insomma cioè ha degli evidenti difetti tecnici che secondo me bastava veramente poco per correggere e questo mi fa sorgere dei dubbi sul perché non li hanno di fatto corretti se ci pensi uno bastava farlo un pochino più freddo secondo me veniva fuori un giocone alla Dead Island un po' meno palloso di Dead Island perché a me Dead Island mi ha sempre rotto un cavasisi dopo un po' e anche giocabile cioè nel senso si poteva giocare e invece hanno optato per la mestizia non so per quale motivo ma io metto pronto infatti io non posso mettere pronto 10 secondi me lo sento ma basta arriveranno altri 5 giocatori in più cioè 2 in più rispetto al massimo numero esattamente e vabbè vediamo un po' come va 4 3 2 1 buon Natale esatto allora vi lasciamo al video perché temo che questo video mi toccherà rifarlo tipo un centinaio di volte ma la parte iniziale è di solito quella che non c'è quindi enjoy non c'è quindi quando si arriva, bisogna essere pronti i walkers, sono prezittabili i uomini, questa è una storia un attimo, fino a qui lo tengo che non ho mai fatto butta butta il problema di questi qui è che appunto quello che stiamo facendo adesso cioè è totalmente ininfluente abbiamo fatto una quinta alla rivolte cos'è che è? abbiamo fatto tipo una quinta alla rivolte si poi il problema è che noi arriviamo quasi sempre lì lì però considerate che il 1 arrivarci quasi non vi fa vincere e 2 il problema è che comunque Angelo tu hai capito da dove attaccano? eh no 6, 5, 4 io mi chiudo il ciasco io metto una vocazione intermedia anche io la famiglia arriva bisogna capire da dove attaccano eh? here we go, they're coming in the gates ti pareva da dove? da dove? da dove? più lontano con l'interno Angelo stai molto attento vissi 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 cazzo porco giuda mi hanno fatto un male che tu non hai idea guarda che cazzo è andato che cazzo è andato? che cazzo è andato? sono già a terra a non ti rituato cazzo non fatti più fuori avverete b 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 zio b b noENE no dev'abbenn'animale zio no no scappa no doe v Alle b b b b cazzo Ho preso la nostra roba, Angelo Dovevi... Prima fai la roba E poi gli rianimami Tanto basta colpirlo prima che vada via Hai capito? Se no... Se no perdiamo Sono qua al cancello principale Su serio? Sì Guarda che ti blocco Oh Preso Devo curare Gate, stanno arrivando al gate Quale gate? Non l'ho capito È pieno qua Cazzo Sì, pare Ma non sono sicuro Comunque sta musica hard rock Mi ha rotto i coglioni, posso dirtelo Sai quelle musiche tutte uguali Che uno diceva Angelo, tu hai capito dove sono gli altri? No Sono solo che sto per muovir Eh, e bende Ok, un altro batch della famiglia Siamo ora E da dove arrivano? Siamo al campo interiore Sì, hanno trovato un po' in Ne perdoni Sono sopra Oh, poi cazzo Arrivano da tutti i pori Non c'è un cazzo No Ma ferro Cazzo Cazzo Cazzo, ci stanno rubando la roba Porca caccia puttana Vallo a prendere subito Corri via Che io sono Che io sono Sì, sì, sì Tanto basta che lo prendi Prima che esca E viene fuori B Sì Mi si stanca pure Dovrei Stai per uscire Preso Però guarda che sono ovunque Io te lo dico Esco da le potute pareti Porca troia Alle spalle, Master Dov'è alle spalle? Dava Ammunizioni Adamo, come stai messo? Ce n'è qualcuno sopra Aspetta, aspetta, bene Cazzo Angelo, stai attento Stai attento Sono qua, sono qua, sono qua Oh, merda Stanno rubendo le scorte Basta che lo blocchi dopo Non morire che è peggio se muori Minchia, sono a terra Chi è della merda E' lagga pure Ah, se ho svinito qualcuno Vai, vai, vai Vai Ok Dove sono questi stronzi? Dove sta parte? Qui, qui, qui Arriva, basta Cazzo Vanno bloccati Do solo la pistola Merda, merda Vanno tirato giù Pensate al carico Il carico Vai a prendere il carico Poi pensa a me Me, 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 me L'han fermato Vieni da me, vieni da me Arrivo, arrivo Vai Io ho bisogno di munizioni Ma ASAP Che di band Di garbage Sul tetto Quale tetto? Abbiamo fatto fuori Cazzo Da qui Da qui Da qui E non ho Eh, niente Angelo Non ho munizioni Porca C'è un'altra gente Si, ma c'è il tipo corazzato Ti basta che fermi Quello che prende Anche se sta correndo Alla fine è solo quello che ci interessa Gli altri Gli altri sono solo dei Dei Ok Se riesci Hanno preso scorte, no? No ancora Però se riesci a rianimarmi Prima che Si, 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 si Sta vendo anche il tizio 14, 13 Che è un piacere il tizio Ti stanno rianimando? Si Ora vado a fare fuori questi stronzi Arrivano Da dove è sto giro? Qua Da questa parte Si Cazzo C'è quello col fucile La pompa Porca troia Quello blindato Come la super cazzo Oh Ebbia a fare Bruciate Tutti quanti Dal gate Preso C'è quello corazzato Basta È incorazzato Eh lo so Scappa via Non affrontarlo da solo Oh porca troia Ma proprio adesso Doveva caricare Fanculo Resisti No no Sono già morto Mi ha buttato da te Heavy Angelo Io vengo respawnato Tra 20 secondi Spero che ce la facciate Vedete così È un flow Praticamente impossibile Ah no L'ultimi Dai che ce la possiamo fare 2 1 0 Via Ci sono Dai master Ok Cazzo Qui Qui da me Porca troia Cazzo Ce n'è uno su te Si stanno rubando di qua Prova ad intercettarlo Da tutti i due lati sono comunque Oh ciò che ci sono i cerchini Ve lo dico Stai fermo Stai fermo Stai fermo Stai fermo Stai fermo Cazzo Porca troia No anche qui Buon lavoro Ma il problema Non è finito Stai con me Stai fermo Stai fermo Stai fermo Stai fermo Non lascia le famiglie Non lascia le famiglie Stai fermo 50 secondi No Cazzo Fermo 30 secondi 30 secondi Stai fermo Angelo Io sono fiducioso Tu sei fiducioso Si 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 L'importante è essere fiduciosi Comunque a me la gava un pochettino Cioè i colpi mi arrivavano dopo No il problema è quando carichi Che questi si cominciano Cioè ma hai visto quando corrono Che sembra tipo Non so Bolt In attesa di giocatori Verdi Circomstanzi Non possono essere controllate A volte Nel altro giorno Sarà diverso Sul tetto Attenzione Visto 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 Succhia Oh cazzo Quello col fucile No Angelo Sei terra No Chi è che Che va a fucile Cazzo Da dove Aspetta che sto rianimando Vai E stazione all'aria Due Uno Sì 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 L'abbiamo fatta Sì Sì L'abbiamo fatta Finalmente Cazzo Angelo Finalmente Finalmente Si Può Fare Fare Sì Mamma mia Che ansia Cazzo Angelo Tu non dicevi niente Chi tace È con loro Chi tace È con loro Al terzo tentativo Dai Si può fare Si può fare Si può fare Ti piace? Tantissimo Almeno Ci spariamo Il prossimo Sì Torna alla mappa Esco No 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 Fermo Che devo fare? Tempo Ragazzi al prossimo video